Mister Centro ha un punto meritato, giusto, però a mettere in difficoltà a formi, a che è l'unore più importante di questa risposta. Grande la gara, un po' di tempo, poi un po' siamo scesi in condizioni, poi comunque abbiamo cambiato il gioco, ci siamo passati un po'. Ecco, un bellissimo gol col vantaggio, lì ci sono valorato da un avvio veramente bello, avete invitato il gioco, al fondo di giocare, di uscire dal ruscio, al fondo se l'aspettava però. Se l'aspettava non siamo contenti, perché questo testimonia il fatto che siamo presi in considerazione e visto che siamo facendo un campionato, vorremmo essere anche noi arrivati nell'entrata dell'epoca con il suo campionato. Come ha visto questo foro? Mi ha, almeno che potete, incapace di trovare il fatto del resto. Foro mi ha votato a me giugati, foro mi ha una grande squadra, quindi questa palladino sicuramente non ha un po' di giudizio. Io penso di aver invigliato la squadra pezzaria e di dare un'attività del nuovo tipo di gioco. Poi, il vantaggio è un po' di giudizio, sicuramente c'è un po' di giudizio. Lei ha un viso che si è molto aggrabbiato, la questione del pareggio, l'ha chiesto, l'ha visto a te, la forza di giudizio. No, non assolutamente mi sono aggrabbiato, mi sono aggrabbiato perché era un pioente, era un quaticano, un po' più di attenzione, era una palla di esergino, poi il centrale non è saltato, il portiere la chiamata e la sinistra. Lei già l'ha detto, ad un estro di finale abbiamo avuto un calo, un calo fisico, l'ho aspettata dopo questa forzata pausa. Era un termalotto, non si sapeva, non ce l'avevamo, però nel finale abbiamo giocato l'altra forza, la squadra è esterna, è un po' di decisione. In seguenza, tornando a forza, ci può stare che gli ultimi 5 minuti vuoi subire l'ultimo 4-1, però l'ultimo 4-1 abbiamo fatto due contropiedi, se Romagnoli un bel caffè nella palla, mancavano 4 minuti alla fine. Prossimo giorno, prossimo impegno, c'è sempre la vista artena, questo capitolo, ma adesso è un momento numericamente complicato per i pezzi. La vista artena giocava sempre per vincere come ha fatto l'inizio. Certamente noi negli ultimi due mesi ci siamo stati capaci di mettere in atto, io voglio, in mezzo al campo, in aggressività, fare al padronanza di partito, e noi stiamo facendo bene questo e giocheremo fino a l'alto possibile. Per arrivare il finale possibile, la posturazione tecnica si può solo passare con il premio. Spieghiamo quando noi rispudiamo una partita di io e mi vedo. Grazie.